Sfruttando un leggero calo mentale dei grifoni, è così che Broso, classe 91 e tante buone prospettive, riapre la contesa dopo appena due minuti con un bel colpo di testa. Colpito al freddo, il grifo traballa e due minuti dopo rischia la veglia, corretto dal solito Broso. Termina di poco a lato. Nel finale è solo il grifo perché...